Bisogna che ci diciamo che bisogna tentare di cambiare, ma il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma la guardia costiera e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi, l'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro discorso.